Sarà un'udienza decisiva per il destino della Cantarelli quella del prossimo 4 maggio. Sarà infatti una vera e propria ghigliottina l'azienda o sarà assegnata a uno dei due offerenti Men's Fashion Group o BLS oppure scatterà il fallimento. All'udienza dello scorso 12 aprile il giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Arezzo Antonio Piccardi, considerando anche che dal MIS era stata segnalata la richiesta di tempo per valutare le proposte presentate, aveva concesso una proroga di circa un mese appunto sino al 4 maggio, giorno in cui questa fase amministrativa dovrà essere completata. Il Ministero dello Sviluppo Economico quindi potrebbe procedere all'assegnazione nel caso in cui una delle due proposte fosse ritenuta congrua ed applicabile per tentare così il rilancio del marchio Aretino. La storica azienda con seda Terontola da tempo in amministrazione straordinaria al momento conta 250 dipendenti tutti a casa, alcuni dei lavoratori infatti sono in casa integrazione altri ancora in ferie forzate in quanto la fabbrica al momento è chiusa per mancanza di materie prime. La riapertura è prevista proprio nel mese di maggio ma ovviamente se i cancelli della storica azienda riapriranno si saprà unicamente il prossimo venerdì.